ciao vittici nove monkeys of shaolin in ita ci sono giochi assurdi che si possono fare in italiana e tanti altri che vorrei tanto fare non sono. Qua c'è dei grandi pezzi di divertisti, terra poderosa di fiumi, montagne e foreste, a fare il leggendario per esempio shaolin del sud, per la prima volta centinaia di anni fa. Quindi tanti tecni, adesso ogni giorno la mente nell'anima banditi senza scrupoli ma il loro grande challenge era l'invaggio dei wukù, pirati dell'antica, che l'arrivano sui dei fratelli del sudок in per l'arpezione. Quando il governo incoci'ma non costruire il l'esercito dei monaci di Shaolin decideranno di bruciare le sue sue regole e aiutare. Aggiungendo le forze con l'armamento imperiale, i monaci riuscirono a trattare le truppe di Wu-Ku, a costa di molti di loro loro vivi. Vittoriosi, i monaci riuscirono al suo monastero e la vita è tornata al normale nelle città di costa. Comunque, per gli uomini Wei-Cheng e il suo villaggio, il problema seguì il problema, semplicemente senza finire. Poi, appartenenti e senza finire. Vai! Fight! 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 Combattiamo, ragazzi! L'ampozzo del drago. Tè verde proveniente da Hangwa, la capitale. Banditi! Ok. Ok. Triangolo, eh. TAM TAM TAM! Ecco che raffigliamo. Bam! Molto, molto carino, raga. Uh, si può rompere il vasellame. Oh, oh, guarda che balordo! questo. Lui dà un attacco. Eh. Eccola. colpiore aiutarli. Eccolo. Come faccio vedere. Eccolo. 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 dare la stoccata ma si può dare anche il colpo col calcio ahia lui si gira e tam sono belli tosti che si fa con l'armatura la rigida e la salute si vai o hai visto hai visto da spaccare le casse al tipo li ha preso e Metti un po' a bere il tè! Chiacchio! Mi prende sempre! Incredibile! Oh! Tra l'altro beviamo! Di salute non è che ci sono proprio messi venuti, no? Oh, comunque c'è un sacco di... di cure, eh? Ah! Wei Cheng, esci da qui! No, no! Nooooo! Oh! Oh, la socca! Allora, due colpi! Oh! Oh! Ci ha fatto fuori tutti quanti, eh? Beh, era provovo. Mi sa che non dovevo... non dovevo ammazzarlo. C'è chiacciato. in tempo. Mettendo una straccia fuori dei loro staff, hanno posizionato Wei Cheng sulle, e lo portavano per molti giorni, fino a finire attraverso una delle case fortificate... della zona. Ah, era ferito, vedi? Capitolo 1 Finalmente ti sei svegliato. Sono felice e ti abbiamo aiutato. Respiravi malapena. Chi sei? Come sono finito qui? Siamo i monaci dello Shaolin del Sud. Ti abbiamo guarito. Il nostro campo tu abbondi. Non ho nato, non molto distante dal tuo villaggio. Mi chiamo Wei Cheng. Mio nonno era accanto a me al villaggio. Sopravvissuto. Mi spiace. Ah, li ucciderò tutti. Penso davvero che siano normali bandi, eh? Tu sei sicuro. Ti stai riprendendo in fretta. Ma stai tranquillo, eh? È un posto dove andare? Ho perso i miei genitori, quindi ero piccolo, sono stato cresciuto da mio nonno. Il resto della mia famiglia viene nello stesso villaggio. Oh! Lu Haibo ha chiesto di vedere. Se hai bisogno di giro durante la battaglia, chiamami. Sono maestro Zheng Long, è vero, ma sono battere bene. Ah, ok, ok. Mi chiamo Lan. Aspetta, sei un monaco. Sei tipo sveglio. Sono un povero mercante. C'è capitato qua. È vero, hanno bisogno di arrivare e non hanno chiesto i loro soldi, ma alla fine ce l'ho dimostrato e sono loro. Armi. Uh! Sì! Beh, non ho niente. Ah, c'è lui. Ah, era lui. Ok. Iniziamo sul concentrarsi sull'energia che c'è dentro il Kai-Ki. Ah, premuto insieme. Un po' in fretta. Un po' in fretta. Ah, come dicevo, si fa una pratica o Ling. Sì. Assolutamente. Ok. Un gioco. Grazie che ti sei quasi del tutto rimesso. Una semplice... Una semplice... Una semplice richiesta per te. Per te l'ho andato il tempo e ora. Abbiamo solo tutto un po' di tempo. Adesso ora ci puoi aiutarlo? Certo. Grazie. Uh, bello. Vai. Ah, visto? Prendi gli incarichi e apri la porta. Bello, bello, bello. Mi piace, mi piace, mi piace. Ci sono un po' di caricamenti perché chiaramente è un gioco PS4, raga. Però non è niente male, eh. Diciamo che l'inizio è buono. Ah, con la barca, i rati. I rati. I rati. Ok. Zilong. Allora, L1 per i proiettili, eh. Ah, ok. L1 gira, non mi prende il proiettile e glielo rispedisce indietro. Grande figata. Ok. Fa questo, fa. Bello. Si capire che prendiamo un po' di te, eh? Ho scoperto qualcosa. Ho scoperto qualcosa. più, ecco. Poi, se tu devi accordarti due legnate, che è meglio? Calmerà. Se tu hai detto due legnate, che è meglio. Già. Ecco. Usiamo alle funzioni però va Evito. La nuova... mi ero l'unica mentre ho reso conto che c'era beviamo un po' di teigno eh si ne beviamo due di teigno forca che legnata va lordi guarda che l'ho un teino si effettivamente credevo che c'era molto di più di teigno ah mi ha fatto lo scappa di lì contro il muro questo non è un templo, è un pilo si effettivamente Tutti... Fenn... Who are you calling up? Ah! E' il pescatore! Mi hanno dato preso! Dai, dirigiamoci subito! Grande! Ah! Bello, bello, bello! Poi va a tempo! Man mano che ci si diventano sempre più bravi, sempre più forti, con più roba si torna e si massacrano prima. Hai scoperto qualcosa? I monaci non hanno sentito nulla. Ci sono due clan. Il clan rosso che attacca il villaggio, il clan verde e il green clan. Ancora troverai visto il legame. Wokou? I pirati giapponesi si sono riapparsi sulle coste. Stanno ancora poco frequenti. Non mi importa se sono banditi o no. Prima, è troppo presto per parlare del full scale segretto. E adesso non bisogna dire tutto con la pesca. Stai più certo che ti chiameremo. Come no? E' un'altra abilità che viene da malattia di generazioni nella mia famiglia. Grandfather non aveva tempo per insegnarmi tutto. Ma era sufficiente per difendermi tutto. L'ho visto combattere, questa tecnica è scarsa. Ma la porta è rispetto ai due uomini. E' un'altra abilità. Devo riconoscere. E' un'altra abilità. E' un'altra abilità. E' un'altra abilità di ripagare i conti. Esatto, hai ragione. Oh, si. Arma più figa. E' un'altra abilità di combattere. 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 Ah, attacchi colpo staccato. Vai di attacco. Facciamo uno, uno, uno e due. E due, e due colpi. Ok, figo. Lui è sempre quello delle missioni, eh? E' un altro abilità. Adesso mi porta con la barchetta. Bello, bello, raga, bello. Mi piace questa tipologia di giochi, eh. Sono di una buona, un altro abilità di più. E' un bel gioco. E' un buoni. Porca c'è anche il fulmine ragazzi, bisogna stare attenti Oh caro ok non mi ha neanche preso poi non si può andare no, pensavo che era una lettera un collezionabile qualcosa del genere oh, allora e che cavolini mi sta dando molto, eh ok, per fortuna mi ha dato una tazzina di te non mi ha dato tutti i tosti qua, eh un po' di tè un po' di tazzina di te vediamo un attimo dobbiamo stare un po' attenti vai me l'ha data sul crapone credo che nessuno sarebbe mai venuto in mio aiuto dovrei inaugurare dei tipi muscolosi e aromati ricompensa 5 stelle bella 5 stelle secondo i aeroporti l'attacco è stato guidato dallo stesso spadacino con la maschera rossa che ha ferito e devo con la maschera di unito indotato solo un giorno in festa ogni giorno in festa per portare i giacoli semplici il viaggio da bambù chiuseremo per intorporarsi una volta raggiunto lì per la foresta avvicinerò dai cosa c'è lui 5 ok quindi se io faccio così ma rimangono queste robe qua sì credo che rimangono qui non si può pregare qui non c'è nulla filtro ah segreti ok e quindi perché è il joan bertist che è allora ma sarà qui allora sicuramente sarà qua raga tra l'altro avevo recuperato un segreto con la nuova Grazie a tutti. 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 Ah, tante sceghe. 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 Ok, abbiamo aperto praticamente tutto. Ok, abbiamo aperto praticamente tutto, eh. Abbiamo rotto il bambù. Abbiamo rotto il bambù. Ok, c'è... Cacchio. Cacchio. Ovviamente poi più cresci e più cresci e più in questi giochi non si si cura più. perché il bambù. Perché non dovresti più morire e quindi tutto il tempo perso adesso a prendere anche i cosi non ci sarà più. Cosa c'è? Che casino. Cosa c'è? 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 Grazie a tutti. E proseguiamo a scoprire che cosa hanno combinato. Grazie a tutti. Dai, si è curato. Quante cure c'ha? Quante cure c'è? 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 Ah, con la R2, bello. Quante cure c'è? Quante cure c'è? Ok. Ah, ma non... Real combat nel senso... Si. Ok. Spendiamo le stelline. Non abbiamo... Ma no. Abbiamo anche l'acrobatica. Abbiamo anche l'acrobatica. Ok. Sì. Aspetta che volevo soltanto mettere le scarpette. Perché sto andando ancora a piedi nudi. E questo che cos'è? Ah, le maschere. Ok, ragazzi. Dai. Dramswong. 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 Ecco. Dramswong. Grande. Dramswong è tutto. Ci vediamo al secondo capitolo di questo gioco che secondo me è veramente, veramente fico. Merita. 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 9 Monkeys of Shaolin. Quindi ci vediamo alla prossima. Scrivetemi nei commenti del video. Se mi piace, se volete che continuo la saga. Scrivetemi tutto quello che volete. Chiaramente solo cose belle e positive. Ah, se no non le leggo. E ve le cancello. No, scherzo. Ah, sì. Comunque sì. Ehm. Un bel mi piace, iscrizione, commentate su Youtube. Ma venite anche a seguirmi in live. Marco Drums Games anche su Twitch. Marco Drums Games anche su Facebook. Su Instagram. Su TikTok. E su Twitch. Twitter. 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 Mi confondo sempre Twitch. Twitter. Twitch. Twitter. E ho anche un bel canarino. Discord. Che se diventate sostenitori del canale e se mi seguite potete anche iscrivervi al canale Discord per sapere tutto. la mia programmazione. Anche parliamo di tante cose. Film, musica e videogiochi. Ciao a tutti ragazzi. Al prossimo video. Da Marco Drums Games Channel. 9 Monkey of Shaolin. Quindi questa è la prima parte e continueremo con le prossime. Ciao.